Allora intanto ci piace pensare che i 15 anni sono già una bella esperienza, ci piace pensare che è il solito messaggio goloso per la città, quest'anno con una nota solidale più importante perché ci sarà un evento che sono questi 25 kg di cioccolato che saranno già diventati 30 al momento in cui si potranno fare, che verranno donati alla Fondazione Sant'Orso, al reparto oncologico laddove c'è un sorriso un po' più difficile per momenti delicati delle persone che stanno vivendo e anche in quel caso CNA che era già presente all'interno del Sant'Orso con le sue estetiste che andavano a truccare, ad abbellire le persone in stato di difficoltà, anche in questo caso ci piace pensare alla CNA come strumento di insieme per la nostra città, in questo caso attraverso il ciocco show. Abbiamo diverse notizie importanti, la prima è che anche qui i cioccolatieri che si erano allontanati dalla CNA quando purtroppo la location non era più piazza maggiore che a tutti noi ovviamente sarebbe piaciuta ma si era spostati in 20 settembre, oggi sono tornati in massa, a testimonianza che non è la location ma l'abilità loro, l'abilità dei maestri pasticceri che è in grado di attirare i visitatori, quindi benvenga questa nuova edizione, benvengano i 300.000 visitatori che ci aspettiamo.